ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su LikingTV con quest'altre carte da aprire queste bellissime carte della Vanini che ci ha mandato il sito www.manuelcante.it qui avete il codice mk5 per un ulteriore 5% su dei prezzi già molto scontati il sito è questo qui ve lo faccio vedere brevemente ragazzi dove potete trovare un po' di tutto dalle card alle figurine dei calciatori e non soltanto ragazzi potete trovare anche raccolte tipo questa o altre e potete anche vendere le vostre figurine seguitelo anche su instagram e seguite anche me su instagram se vi fa piacere intanto iniziamo a spacchettare vai anita queste carte sono del 2022 iniziamo con un pacchetto per uno non c'è scritto allora 100 base 40 legend 20 champions sono suddivise ogni pacchetto a 5 card 6 red parallel 3 green parallel una gold parallel in un box ok ci sono 5 card già l'abbiamo detto vai anita comincia a far vedere questa è debut edition adesso non so se ci sono varie versioni di queste carte ok allora abbiamo trovato una card 2 card champions eccole qua che ce ne sono soltanto 20 io ho trovato un'altra un'altra card champions un'altra card champions e un'altra ancora ora così rare non sono perché ne abbiamo trovate veramente tante però sono soltanto 20 invece 40 sono le legend che sinceramente penso che non le abbiamo trovate perché non ho visto scritto da nessuna parte le legend a meno che non siano queste col bordino rosso perché tutte le altre il dietro infatti diverso da queste qui speciali ok continuiamo ad aprire e vediamo se riusciamo a trovare queste queste rare un'altra champions e un'altra champions non vedo le leggende a meno che le leggende veramente non siano quelle col bordo diverso perché visto ci sono alcune col bordo giallo per esempio questa a me mi sembra una foto molto antica questa potrebbe essere una leggenda però non c'è specificato forse le leggende ragazzi forse ho capito quali sono le card della leggenda secondo me le card della leggenda sono proprio queste qui e infatti vedi questa è la carta normale base questa è quella che c'è questa cosa scritta qui in fianco e infatti c'è scritto leggende qui a fianco non ci abbiamo manco fatto caso con te rock e via dicendo l'ho fatto un'altra leggenda? si quelle sono le leggende bene quindi abbiamo capito quali sono le leggende io penso non solo questa leggenda perchè è blu e quale sono le champions un'altra champions questa comunque ci sono due ragazzi c'è una champions e una leggenda questa è la leggenda quella è la leggenda ah giusto questa non lo so se la leggenda però no è normale questa è la leggenda quante ne troviamo leggende e un'altra champions ultimi due pacchetti rimasti questo qui è sempre delle cose leggende perchè dietro c'è il coso delle leggende solo che è un coso quelle lì questo è un personaggio delle leggende però nella card c'è il coso delle leggende infatti c'è scritto leggenda qui dietro poi un'altra leggenda si questa ok questa questa perfetto perfetto ragazzi per oggi abbiamo finito ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti sì 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 sì